permesso buongiorno buongiorno io sono un pittore americano e sto vendendo i miei quadri porta a porta posso farti vedere io sono musicista non 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 hai soldi tu sei toni esposito si si sono stato un concerto tuo 25 anni fa sei stato bravissimo grazie sarò onorato se i miei quadri entrano nel tuo collezione vedi ti faccio un buon presto a vista per altri è un scontro di quadro questo tu vuoi tutti no voglio sapere quanto vuoi ma se sono 5.000 euro ma se prendi tutti se prendi tutti 20.000 euro ma tu guadagni molto guarda in questo momento è difficile io li amo molto se vuoi li posso tenere qui e poi ci posso pensare aspetta 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 ci sei di napoli sì ma meglio se facciamo chiudiamo qui ma posso posso entrare ma perché non hai qualche segno con te no in questo momento no solo tamburi e musica lasciamo questo non è che vuoi una chitarra in cambio non suoni la chitarra no ho un fratello che suona chitarra e allora prendi una chitarra io prendo questo ma aspetta aspetta facciamo la chitarra più solido 25 più la chitarra perché questo vale 500 no di più questo suonato io vale di più ma ma lo firmi anche e te la posso firmare tu hai firmato questo 2000 più 1000 ti faccio questo firmato ok te lo preparo ma tu sei molto più simpatico degli altri questo stavo a ponte miglio primo sono duri lì sono dure e ti faccio una segna una segna una segna non ti piglio naturalmente ok ma non postato sai che il film esce fino a metri 18 maggio lo vedrò tutto intero per la prima volta io tutti italiani possono vedere cominciando 18 maggio diciamolo veramente in italia e poi subito dopo in america canada polonia estonia francia germania